Blocco compatto e allungato che si eleva a comporre lo spazio avvolgente della piazza, chiudendolo agli estremi con due ali, mentre concentra sulla fronte frastagliata la massima intensità di valori lineari e coloristici, così appare nel suo insieme e all'esterno il Duomo di Orvieto, in una prima diretta visione. Subito la facciata si stacca di netto dal corpo della cattedrale, che nelle sue forme si rivela strettamente unitario, ma basta che l'osservazione si porti sulle pareti del transetto delle due grandi cappelle e della tribuna per scoprire prontamente che l'integrità della creazione originale vi è stata alterata.